Una buonasera amici del campionato universitario, ottava giornata Lega Statale di fronte Statale E Real Dronno, diamo subito uno sguardo alle formazioni, la Statale con la consueta maglia verde con gli inserti bianchi Con Paratore tra i pali, poi Ghislandi, Monteleone, Cardoso, Calabro, Randazzo, Frosio, Di Corso, Malchiodi, Ingrosso e il bomber La Mai risponde, Real Dronno con la maglia viola, con Colucci tra i pali, poi Baglioni, il capitano, Galimberti, La Croce, Cantarella, Maneo, Forni, Codir e Mazza Il numero 22 che perde il pallo, la loro ingrosso, può andare per la Mai, attenzione, due contro uno, la Mai, chiude tutto Ottimamente Baglioni, un intervento che vale quanto un gol Tanto la palla dentro che ribalta sul pallo e poi con un fallo di mano forse Forse è un fallo di mano, forse è un fallo di mano Se non l'ho visto male, ma là ce ne prosegue, allora attenzione a Codir che può andare in porta, episodio chiave Palla buona intanto, ancora l'1-2 per Malchiodi, Malchiodi col pallonetto E poi, gol o non gol, salva comunque Maneo sulla riga, si continua a giocare, la palla non è entrata Ancora Cardoso, centralmente per ingrosso, ha un gran destro, preferisce andare in verticale, palla che non passa Allora però poi viene ancora conquistata, la Mai, è tutto buono, la Mai Vantaggio statale Sulla corsia di destra intanto c'è un attempato Calabro che prova l'1-2 con la Mai Ancora la Mai, vuole liberarsi la Mai Pallone sul fondo, ma la statale sta ingranando Palla intanto è buona Per il gol del Real Dronno, quattordicesimo minuto, il pari del Real Dronno Cerca, suggerimento centrale per Ghislandia, ancora Calabro Frosio, bellissimo il pallone per Di Corso, Di Corso, c'è Centale, la Mai, la palla che arriva per la Mai E si impenna e termina sul fondo, grandissima occasione per la statale, al quinto minuto di gioco Palla centrale, ancora per Maneo che la stoppa bene, Maneo va col Mancino 2-1 Real Dronno Prova a accelerare, Randazzo, palla buona per Raia, Di Corso che la tiene dentro Di Corso, Di Corso, Di Corso, Di Corso col Mancino, la palla che carambola E termina in rete, per il pareggio della statale Di Corso, la carambola sfortunata di Colucci, 2-2 all'undicesimo minuto Andrà la croce quando i minuti sono 12 Palla buona per il colpo di testa Di Maneo Che si coordina in maniera stranissima Ma vale il gol del nuovo vantaggio Real Dronno 40 sul cronometro Palla che gira Colucci in calcio d'angolo con un gran colpo di Reni Cardoso Cardoso Vuole andare alla conclusione Cardoso Traversa clamorosa Palla buona per Randazzo Che traversa Di Cardoso Può chiudere adesso Cantarella, Di Tacco, la palla per Codir Codir, la palla che rimane lì E poi c'è il gol Che chiude il match La chiude Forni, 4-2 Real Dronno Buonasera a tutti Siamo qui con la Statale Allora Una partita abbastanza buona Però avete perso 2-4 Contro Real Dronno Gol di Reni e di Di Corso Iniziamo a parlare con Di Corso È andata male Abbiamo sbagliato sicuramente le posizioni in campo Abbiamo creato abbastanza Non tantissimo Però ci è mancato proprio il gol alla fine Molti errori proprio sotto porta Una bella traversa di Cyril È andata male Insomma ci rifacciamo l'ultima partita del girone E speriamo di passarla Bene Quindi comunque Come squadra siete abbastanza alti In classifica non vi preoccupa Questa perdita diciamo Il Real Dronno forse va più bisogno di questa vittoria Credo Quindi Quindi niente Salutiamo tutti Un saluto generale C'è mancato Bruno stasera È vero C'è mancato Bruno Salutiamo Bruno Ciao Bruno Anche sì mi è mancato Bruno È vero Come sta Daffa? Non lo pensiamo mai È vero Male Parliamo di Daffa Male Lontano dai campi Per più di qualche mese Non viene nemmeno a seguirci Però noi lo salutiamo lo stesso Anche se non ci pare bene Tratto oggi sconfitta E due infortuni Altri due infortuni La statale La statale quest'anno Ha preso il record di infortuni Perché tutti voi li avete infortunati Quest'anno almeno 12 su 10 Speriamo tre Ce ne fanno male Esatto Siete un po' Un po' gracilini Diciamo così Questi vecchi Va bene dai Grazie mille ragazzi Buona serata Buonasera a tutti Siamo qui con i ragazzi del Real Dronno Il capitano Baglioni E il bomber Maneo Autore di una doppietta Iniziamo a parlare subito con lui Un 4 a 2 Quindi una grande vittoria Che vi serve sicuramente per questa classifica Che un po' Diciamo che piange Esatto Eh sì eravamo ultimi Adesso stanno giocando però Le due squadre che sono a pari punti con noi Bel parigino Saremmo Guadagneremo due o tre posizioni importanti Per saltare i play out magari Sarebbe buono Esatto Quindi speriamo appunto di saltare i play out Poi ho fatto gol di testa Che è un miracolo incredibile Non lo vedrete mai più Quindi finirà in top 5 il tuo gol Può essere? Ce lo aspettiamo? Speriamo dai Quindi speriamo nella top 5 per Maneo Quindi passiamo a Baglioni Ci comunicano che hai fatto un'ottima partita Non hai fatto gol Però comunque ti sei destreggiato abbastanza bene nel tuo ruolo Cosa ne pensi della squadra quindi da capitano? Allora ci siamo messi rispetto all'ultima partita Abbiamo giocato ancora meglio Sempre una vittoria di gruppo E abbiamo dato continuità con questa seconda vittoria consecutiva Che ci porta a 9 punti E adesso sperando di arrivare a 12 E arrivare almeno appunto senza fare i play out E sperare anche magari con un po' di fortuna Arrivare magari al play out per la Champions Bene bene Quindi vi auguriamo di arrivare al play out E vi auguriamo anche una buona serata Quindi grazie mille Buona serata anche a voi Vogliamo fare un saluto Ok facciamo un saluto a chi? Ai due nostri ex compagni che sono in Erasmus tutti e due Ah che bello Dove sono di bello? Mi ha un fratello in Australia E Berniano a Valenza Ciao raga Ciao a tutti Salute per voi Divertitevi anche per noi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti